Il calcio dei Pionieri Il calcio dei Pionieri Il calcio dei Pionieri Sono giocatori importanti che hanno militato in categorie superiori e quindi sarà una partita dura e difficile. Noi, volevo ricordare, in casa abbiamo subito solo quattro gol. Speriamo di continuare su questa linea e poi vediamo. Chiaramente a nomi il Taranto è favorito, però nel calcio ci si gioca tutte le partite. Un cammino playoff che parte in salita dalla quinta posizione della stagione regolare e contro il Taranto, una delle formazioni più forti del girone A. Credo che sicuramente loro siano favoriti, ma già dall'inizio dell'anno erano favoriti a vincere il campionato, la nostra dimensione era un'altra. Ora però che stiamo ballando cercheremo di ballare fino in fondo, nel senso è normale che ci crediamo anche noi, nonostante i pronostici siano a nostro sfavore. Il campionato ha detto che comunque siamo stati sempre terzi in classifica fino all'ultimo periodo in cui siamo entrati nei playoff. Però il campionato era un campionato in teoria che dovevamo puntare alla salvezza e invece questa sorpresa dei playoff è una stagione esaltante da parte di tutti. E domenica l'appuntamento è qui, dallo stadio Silvio Piola di Vercelli, per tornare nel calcio che conta. Grazie per la visione!